Con cautela professionale, Grenoie si mise all'opera. Aprì la sacca da viaggio, ne tolse la pezza di lino, la pomata e la spatola, allargò la pezza sulla coperta su cui si era steso e cominciò a spalmarla con la pasta grassa. Era un lavoro che richiedeva tempo, perché era importante applicare il grasso in uno strato ora più spesso, ora più sottile, a seconda dei punti del corpo in cui le rispettive parti della pezza dovevano venire a contatto. Bocca e ascella, petto, sesso e piedi davano quantità di profumo maggiori che non ad esempio tibie, schiene e gomiti. I palmi ne davano più dei dorsi della mano, le sopracciglia più delle palpebre, eccetera, e di conseguenza per queste parti bisognava usare più grasso. Quindi Grenoie modellò quasi un diagrammo odoroso del corpo da trattare sulla pezza di lino. In realtà questa era per lui la parte più soddisfacente del lavoro, perché si trattava di una tecnica artistica che occupava in ugual misura sensi, fantasie e mani e inoltre anticipava idealmente il piacere del risultato finale che ci si aspettava. Dopo aver usato tutto il recipiente della pomata, picchietto ancora la pezza a quella, tolse il grasso in un punto, lo aggiunse in un altro, diede qualche ritocco, esaminò ancora una volta il paesaggio di grasso che aveva modellato con il naso, peraltro non con gli occhi, perché tutto il lavoro si svolgeva nella totale oscurità, il che forse contribuiva a rasserenare ulteriormente l'animo di Grenoie. In quella notte di luna piena nulla lo distraeva, il mondo non era altro che odore e un lieve brusio proveniente dal mare. Grenoie era nel suo elemento. Poi ripiegò la pezza come un tappeto, in modo che le superfici spalmate di grasso si trovassero l'una sull'altra. Questa era un'operazione dolorosa per lui, perché sapeva bene che così facendo, pur con tutta la cautela possibile, parte dei rilievi su cui aveva dato forma si sarebbero appiattiti e spostati. Ma non c'era altro modo di trasportare la pezza. Dopo averla piegata quel tanto da poterla portare senza troppa difficoltà, stesa sull'avambraccio, prese con sé la spatola, le forbici e la piccola clava di legno d'olivo escivolò fuori dalla stalla. Il cielo era coperto. Nella casa non c'era più un lume acceso. L'unica scintilla di luce in quella notte nera, come la pece, guizzava ad est sul faro del fortino dell'isola di Saint-Marguerite, a un miglio di distanza, una minuscola, lucente punta di spillo nella pezza nera. Dalla baia aggiungeva una brezza leggera dal sentore di pesce. I cani dormivano. Grenoie si diresse verso il finestrino del granaio, su cui era appoggiata una scala a pioli. Solevò la scala e, tenendola dritta in equilibrio, con tre pioli incastrati sotto il braccio destro libero, e la parte superiore, che premeva sulla spalla destra, attraversò il cortile finché arrivò sotto le finestre di Lohr. La finestra era semiaperta. Mentre saliva sulla scala a pioli, comodamente come su una scala normale, si rallegrò della circostanza di poter cogliere l'aroma della fanciulla à la Napoule. A Grasse, con le finestre munite ed inferiate, e la casa rigidamente sorvegliata, sarebbe stato tutto molto più difficile. Lì dormiva persino sola. Non occorreva neppure eliminare la cameriera. Apri le imposte con una spinta, scivolò nella camera e depose la pezza. Poi si girò verso il letto. Il profumo dei capelli di Lohr era predominante, perché era distesa sul ventre e il suo viso, incorniciato dal braccio piegato, era affondato nel cuscino, di modo che la sua nuca si presentava in modo addirittura ideale per ricevere il colpo di clava. Il rumore del colpo fu sordo e stridente. Grenoyne lo odiò. Lo odiò soltanto perché era un rumore, un rumore nel corso del suo lavoro che altrimenti era silenzioso. Riuscì a sopportare quel rumore disgustoso soltanto a denti stretti e quando esso cessò restò fermo ancora un poco, rigido e teso, con la mano contratta attorno alla clava, quasi temendo che il rumore potesse tornare indietro da qualche punto, comunico, con un eco risonante. Ma non tornò indietro, tornò invece il silenzio nella stanza. Un silenzio persino accresciuto, poiché adesso non c'era più nemmeno il lieve fruscio del respiro della fanciulla. E subito la tensione di Grenoyne, che forse si sarebbe potuta interpretare anche come un atteggiamento di profondo rispetto o come un autoimposto minuto di silenzio, si sciolse e il suo corpo si rilassò e si ammorbidì. Grenoyne mise da parte la clava e si dedicò con Solerzia al suo lavoro. Per prima cosa spiegò la pezza da profumare. La stese mollemente dal rovescio sul tavolo e sulle sedie e fece attenzione a non toccare la parte grassa. Poi alzò la coperta del letto. L'aroma meraviglioso della fanciulla che sgorgò all'improvviso caldo e concentrato non lo colpì in modo particolare, lo conosceva già e soltanto dopo quando fosse diventato veramente suo l'avrebbe goduto, goduto e goduto ancora fino a ubriacarsene. Ora si trattava di prenderne il più possibile e di lasciarne sfuggire il meno possibile. Era il momento in cui occorrevano concentrazione e velocità. Con rapidi colpi di forbice tagliò la camicia da notte di l'or gliela tolse afferrò la pezza spalmata di grasso e la gettò sul suo corpo nudo. Poi sollevò il corpo e lo fece passare sotto la parte pendente della pezza che arrotolò come fosse un panettiere con lo strudel. Piegò le parti terminali della pezza e avvolse tutto il corpo dalle dita dei piedi fino alla fronte. Soltanto i capelli spuntavano da quella fasciatura da mummia. Li tagliò rasenti alla pelle della testa e li avvolse nella camicia da notte che annodò come un fagotto. Da ultimo coprì il cranio rasato con un pezzo di tela che aveva tenuto da parte. Lasciò con le mani il bordo sovrapposto alla testa e picchettò per farlo aderire con leggeri colpetti delle dita. Esaminò l'involucro da cima a fondo. Non c'era più una fessura non un forellino non una minima piega da cui potesse sfuggire l'aroma della fanciulla. Era imballata alla perfezione. Non restava altro che aspettare sei ore fino alle prime luci dell'alba. Prese la poltroncina su cui erano stesi i vestiti di l'or la portò vicino al letto e si sedette. Nell'ampia veste nera leggiava ancora l'effluvio delicato del profumo della ragazza misto all'odore dei pasticcini all'anice che aveva messo in tasca come provvista per il viaggio. Appoggiò i piedi sul bordo del letto accanto ai piedi di l'or si coprì con la veste nera di lei e mangiò i pasticcini all'anice. era stanco ma non voleva dormire perché non era decoroso dormire durante il lavoro anche se il lavoro consisteva soltanto nell'attendere. Ricordò le notti passate a distillare nel laboratorio di Baldini l'alambicco annerito dalla fuligine la fiamma tremolante il lieve rumore come disputo con cui il distillato colava a goccia dal tubo di raffreddamento nella bottiglia fiorentina di tanto in tanto era stato necessario sorvegliare il fuoco aggiungere altra legna o acqua per distillare cambiare la bottiglia fiorentina sostituire il prodotto da distillare ormai esaurito e tuttavia gli era sempre sembrato che si dovesse vegliare non soltanto per sbrigare le operazioni che di volta in volta si rendevano necessarie ma che la veglia fosse importante di per sé anche lì in quella stanza dove il procedimento dell'enflorage si compiva in modo totalmente autonomo anzi deve esaminare rivoltare toccare il pacco doroso avrebbe potuto addirittura nuocere al processo anche lì Greneux aveva l'impressione che la sua presenza vigile fosse importante il sonno avrebbe potuto mettere in pericolo il buon esito dell'operazione del resto non faceva fatica a vegliare e ad aspettare nonostante la sua stanchezza questa attesa gli piaceva gli era piaciuta anche con le altre 24 fanciulle perché non era un'attesa passiva e ottusa né un'attesa cosciente e febbrile bensì un'attesa partecipante ricca di significato in un certo modo attiva si realizzava qualcosa durante quell'attesa si realizzava l'essenziale e anche se non era lui ad agire esso si realizzava per suo tramite aveva dato il meglio di sé aveva impiegato tutta la sua abilità non un particolare gli era sfuggito l'opera era unica nel suo genere sarebbe stata coronata dal successo doveva attendere ancora qualche ora lo appagava profondamente a questa attesa in vita sua non si era mai sentito così bene così tranquillo così equilibrato così tutt'uno con se stesso neppure quando era stato sulla sua montagna come in queste ore di pausa del lavoro quando a notte fonda sedeva accanto alle sue vittime e aspettava vegliando erano gli unici momenti in cui il suo cervello malinconico formulava pensieri quasi lieti stranamente questi pensieri non erano rivolti al futuro non pensava al profumo che avrebbe raccolto fra qualche ora non al profumo fatto dall'aura di 25 franciulle non a progetti futuri alla felicità o al successo no, pensava al suo passato ricordava le tappe della sua vita dalla casa di Madame Lillard con davanti la catasta di legna calda e umida fino al suo viaggio di quel giorno nel piccolo villaggio di Lannapul odoroso di pesce ripensò al conciatore Grimal a Giuseppe Baldini al marchese del Thaïade Spinasse ripensò alla città di Parigi alle sue esalazioni cattive fatte di mili odori ripensò alla fanciulla dei capelli rossi in grude mare alla campagna aperta alla brezza leggera ai boschi ripensò anche alla montagna dell'Auvergne non volle evitare questo pensiero alla sua caverna all'aria priva di odore umano ripensò anche ai suoi sogni e ripensò a tutte queste cose col massimo piacere sì, ricordando il passato gli sembrava di essere un uomo particolarmente favorito dalla fortuna e che il suo destino l'avesse guidato per vie molto tortuose ma alla fin fine giuste come sarebbe stato possibile altrimenti che lui fosse arrivato fin lì in quella stanza buia alla meta dei suoi desideri se ci rifletteva fino in fondo era davvero un individuo toccato dalla grazia si sentì sopraffatto da commozione umiltà e gratitudine ti ringrazio disse a bassa voce ti ringrazio Jean-Baptiste Grenoy di essere come sei a tal punto era preso da se stesso quindi abbassò le palpebre non per dormire ma per dedicarsi tutto alla pace di quella notte sacra la pace gli riempiva il cuore ma gli sembrava che regnasse anche tutto attorno annusò il sonno pacifico della cameriera nella stanza accanto il sonno profondamente soddisfatto di Antoine Riquis dall'altra parte del corridoio annusò il sonno quieto e leggero dell'ocandiere dei servi dei cani delle bestie della stalla di tutto il luogo e del mare il vento era calato ovunque c'era silenzio nulla turbava la pace una volta piegò il piede di lato e toccò appena il piede di Lor non proprio il suo piede bensì la pezza che lo avvolgeva con lo strato sottile di grasso dall'altra parte che si stava impregnando del profumo di lei quel profumo squisito il profumo di grenei quando gli uccelli cominciarono a cantare cioè ancora molto prima dell'inizio dell'alba si alzò e terminò il suo lavoro fece srotolare la pezza e la tirovia come un cerotto dal corpo della morta il grasso si staccava bene dalla pelle soltanto sui rilievi rimase attaccato qualche residuo che dovette togliere con la spatola gli altri resti di pomata li tolse con la maglietta di l'or con cui alla fine sfregò anche tutto il corpo da capo a piedi e così a fondo che persino il grasso dei pori si staccò dalla pelle in piccoli grumi portando con sé gli ultimi filamenti e frammenti di profumo soltanto ora per lui l'or era davvero morta avvizzita scialba e flaccida come gli scarti dei fiori gettò la maglietta di l'or dentro la grande pezza per l'enflorage nella quale soltanto avrebbe continuato a vivere vi aggiunse la camicia da notte con i cappelli e avvolse il tutto strettamente formando un pacchettino compatto che mise sotto il braccio non si dette neppure la pena di ricoprire il cadavere sul letto e sebbene il nero della notte si fosse già trasformato nel grigio blu dell'alba e gli oggetti della stanza cominciassero a prendere forma non diede neppure un'occhiata al letto per vedere la ragazza almeno una volta in vita sua con gli occhi la sua persona non lo interessava per lui l'or non esisteva più come corpo bensì soltanto come profumo privo di corpo ed era questo che teneva sotto il braccio e che portò con sé si so piano piano sul davanzale della finestra e scese dalla scala a pioli fuori si era levato il vento e il cielo si schiariva e riversava sulla campagna una luce fredda color azzurro scuro mezz'ora dopo la serva accese il fuoco in cucina quando uscì di casa per prendere la legna vide la scala appoggiata alla finestra ma era ancora troppo assonnata per riuscire a spiegarselo poco dopo le sei si levò il sole si levò dal mare enorme e rosso oro tra le due isole e le rins in cielo non c'era una nuvola era l'alba di uno splendido giorno di primavera erichis che aveva la stanza rivolta a ovest si svegliò alle sette per la prima volta da mesi aveva dormito in modo davvero splendido e contrariamente al solito rimase a letto ancora un quarto d'ora si stiracchiò e sospirò di piacere e ascoltò il gradevole rumore che saliva dalla cucina poi quando si alzò e spalancò la finestra e vide il bel tempo fuori e inspirò l'aria fresca e frizzante del mattino e uscì il rumore e udì il rumore della risacca il suo buon umore non ebbe più limiti sporse in fuori le labbra e fischiò un'allegra melodia mentre si vestiva continuò a fischiare e fischiava ancora quando lasciò la stanza e attraversò il corridoio con passo leggero fino alla porta della camera di sua figlia bussò bussò di nuovo molto piano per non svegliarla di soprassalto non giunse risposta sorrise era comprensibile che dormissi ancora girò la chiave con cautela nella seratura e fece ruotare il cavistello ad agio molto ad agio cercando di non svegliarla quasi bramoso di sorprenderla ancora nel sonno dal quale voleva svegliarla con un bacio ancora una volta l'ultima prima di doverla dare a un altro uomo la porta si aprì di scatto egli entrò e la luce del sole gli piove in pieno viso era come se la camera fosse piena d'argento lucente tutto risplendeva e per un momento l'impatto gli fece chiudere gli occhi quando li riaprì vide l'or vide l'or che giaceva sul letto nuda e morta con i capelli rasati e il corpo d'un bianco accecante era come nell'incubo che aveva avuto due notti prima a grass e poi dimenticato e il suo contenuto ora passò come un lampo per la sua memoria d'un tratto tutto era estremamente preciso come in quel sogno soltanto molto più chiaro grazie a tutti